Iniziamo il punto C oggi con un pensiero per tutto Schillaci, è stato un'icona del calcio italiano, ieri ero bambino, è il primo mondiale che ho visto di sfuggita, l'ho rivisto molto dopo con le videocassette e con tutti i filmati che poi sono venuti fuori di quel mondiale particolare con Maradona sconfitto in finale, quella semifinale con l'Argentina, Schillaci era il bomber delle notti magiche, è stato il Paolo Rossi del mondiale del 90 con un esito diverso ma che assolutamente non offusca la sua storia e il pensiero va a lui in questo giorno triste per la sua morte perché saremo sempre legati quando penseremo al mondiale italiano del 90, un mondiale che ha fatto storia, il nostro pensiero andrà a Schillaci, l'icona di quel mondiale, sarà una notizia più brutta della mattinata, una mattinata che provando a spostarci su cose molto più amene e molto meno importanti è stata convulsa intensa sotto il profilo calcistico per tutto il mondo del pallone italiano perché ovviamente il pensiero va a Schillaci però l'attualità, il mondo che va avanti ci riporta in casa Roma dove sta desonerato Daniele De Rossi, una situazione che rimanda e fa capire le difficoltà del mondo Roma con un seo greco, la proprietà americana, l'attacco al senso di appartenenza di Tricoria con tutti i licenziamenti che ci sono stati anche nella sfera dei dipendenti e l'esonore di De Rossi è soltanto un passo di questa storia, De Rossi a cui è stato fatto un contratto triennale soltanto pochi mesi fa, di far capire la confusione del progetto Roma tra Murigno, rinnovo di De Rossi e una finale di campionato che già aveva mostrato delle crepe, questo inizio l'ha continuate, neanche una vittoria finora della Roma, pareggio a Cagliari, sconfitta con l'Empoli, pareggio a Torino con la Juve e pareggio a Genova con il gol subito al 95esimo e perché pensiamo alla Roma? E pensiamo al Milan stritolato dal Liverpool, il Milan ha dato dieci minuti, poi Liverpool ha preso il campo e ha detto bye bye, ha completamente dominato la partita, ne poteva fare anche di più di gol, magari Leao nel finale poteva fare il gol del 2-3 ma al Milan ci sono problemi seri, basta vedere la spoccia di Ibrahimovic nel pre-partita. Perché guardiamo a Roma e Milan? Perché hanno sbagliato le scelte, la Roma ha sbagliato le scelte nell'incoerenza di rinnovare il contratto a De Rossi e metterle in crisi alle prime difficoltà, nell'incoerenza di affidarsi a De Rossi e attaccare alle radici il senso d'appartenenza della Roma. Il Milan ha sbagliato le scelte, non Fonseca perché è un buon allenatore, chissà potrebbe anche riprendersi, ma in due anni ha cacciato le certezze Maldini e Pioli per affidarsi all'ignoto perché Ibrahimovic è stato un campione, assoluto, ma non significa che se è stato un campione deve essere per forza un grande dirigente. E allo stesso tempo ha tolto le certezze Maldini e Pioli per andare verso due incertezze, Ibrahimovic e Fonseca. Fonseca che a Lille fa bene perché in Ligane c'è più libertà nella proposta calcistica, negli equilibri, ma il Milan palesa gli stessi problemi di equilibrio che aveva la sua Roma. Il Napoli deve guardare a questi progetti, ricordarsi dei disastri che ha fatto l'anno scorso, perché ha fatto le stesse cose. Tolse le certezze, giunto le spallette e si affidò all'ignoto. Micheli ad occuparsi della direzione sportiva, poi l'arrivo di Menuso quando il ritiro stava iniziando, la scelta tutta sbagliata degli allenatori, Garzia che non aveva un'esperienza in Europa importante da 4-5 anni, Mazzarri che veniva da un fallimento al Cagliari e Calzona che era la sua prima esperienza allenatore in un club. E invece ha fatto il contrario quest'anno, ha fatto le scelte giuste, è partito da un direttore giovane, valido, legato all'allenatore, un progetto univoco, manna Conte, la certezza Antonio Conte, la garanzia Antonio Conte, con i problemi che ti poteva portare, vedi situazione Fonoruncio, vedi la conferenza pre-Verona, però anche con le risorse che ti dà, convincere Lorenzo a rimanere, convincere Kvara a rimanere, prendere Buongiorno, prendere Lukaku, prendere McTominay e Gilmour e far capire a tutti che l'aria è cambiata, non si scherza più. Guardate l'abbraccio di Lorenzo Conte, guardate come tutti sono contenti, sentono la forza di poter rigenerarsi e di rivedere un progetto che può far bene, che è un abbandonato da Spalletti in poi. Questa è la differenza, oggi, la fotografia tra Roma e Milan e Napoli e il Napoli deve approfittarne per allungare, perché poi bisogna sempre stare con i piedi per terra. Chissà, vediamo a marzo-aprile dove sarà il Napoli e vedremo, ma nel frattempo la priorità assoluta è tornare in Champions League e queste sono le concorrenti per cui bisogna approfittare delle loro difficoltà e distanziarle il più possibile. Passando anche per la partita di Torino, nel weekend in cui ci sarà il derby, derby in cui il Milan probabilmente andrà senza Mignan che si è infortunato ieri, senza Calabria forse, comunque con i problemi che lascia la partita contro il Liverpool. Quindi tocca al Napoli approfittare del momento e correre, pedalare, avere i paraocchi come ha detto Antonio Conte e andare avanti per la propria strada, con la forza di non fare l'errore degli altri, nelle difficoltà fare come nel posto di Verona, compattarsi, predicare serenità, perché le difficoltà in una stagione lunga arrivano. La Juventus, vista ieri in Champions League, ha subito il primo gol della stagione, al di là di questo ha approfittato di una squadra che aveva le maglie larghe in fase difensiva. Appena ha avuto squadre ordinate e che hanno fatto una fase difensiva precisa ha patito delle difficoltà. Vedi Roma e Tempoli. Si diverte se tu ti allarghi. L'ha fatto col Verona, col Como e col PS Vendoven. Il Napoli dovrà fare l'opposto. Stringersi, essere attentissimo, lavorare su ogni seconda palla, andare ad aggredire ogni spazio a disposizione, non dare fiato ai Kopminers, a Gildiz, ai Nico Gonzalez, ai Vlaovic. Quindi sicuramente la partita contro il PSV è stata studiata da Conte e dal suo staff per far capire alla squadra cosa non fare e andare avanti nell'analisi dei movimenti da compiere dopo la doppia seduta di ieri e l'approfondimento in sala video. Oggi torna il Napoli ad allenarsi con una sola seduta, domani parlerà Antonio Conte in conferenza stampa nel giorno di San Gennaro per prepararsi poi alla sfida di sabato alle 18 a Torino contro la Juventus. Vi porteremo con la mano, con tutti gli aggiornamenti poi che arrivano anche dalle altre squadre perché il Napoli fa un campionato e lo deve guardare anche alle altre, nell'approfondimento quotidiano del punto C come quello che vi state ascoltando e vedendo ora e poi con le dirette quotidiane di Radio Napoli Centrale dalle 13 alle 15. Tutto sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi e abbonatevi perché abbonandovi date un supporto al lavoro che cerchiamo di fare per portarvi dentro il mondo Napoli.